E ci siamo amici biscotti, io sono Andreore, benvenuti sul mio canale, benvenuti in questo nuovissimo video gameplay, ma 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 prima di piangere per quest'estate che sta finendo o essere felici per quest'inverno che sta arrivando, vi ricordo di lasciare un like, commentare e iscrivervi attivando la campanellina. Ma comunque oggi siamo su Outer Wild e sì mi sono allenato un bel po' a dire questo nome, anche perché effettivamente oggi ho un po' di mal di gola, comunque direi di non perdersi troppo in chiacchiere e vedere un po' questo nuovo gioco, comunque questo nuovo gameplay. Ok, all'inizio ci ha consigliato il joystick e perciò ho dovuto spolverare un po' il mio vecchio joystick dell'Xbox e direi che per essere un po' professionale, un po' professionisti, andiamo a vedere un po' le impostazioni. Ok, sì ci sono delle impostazioni, ci sono delle impostazioni audio, video, emissioni dati, grafica e modalità di gioco, belle, bella grafica e ok niente, abbiamo visto le impostazioni perciò direi di andare immediatamente a nuova spedizione. Ah sì, deve caricare, è vero? Sì perché prima ho provato un po' di gameplay, giusto quel tanto che basta per farmi un'idea dei tasti ed è quello che potrebbe essere questo gioco ed effettivamente non ho ben capito che tipo di gioco sia, comunque è tipo qualcosa di esplorazione. Svegliati. Ok, sì devo guardare perché effettivamente non mi ricordo più i tasti dell'Xbox. E cosa, cos'è quello? Una, una stornave che si rompe? Ok, comunque possiamo già muoverci. Allora, non mi sembra fluidissimo e non capisco bene il perché, va a 50, 60, forse dovrei diminuire un po' la grafica, forse è perché sto un po' registrando, perciò vedo un attimo di fare dei piccoli e velocissimi test prima di continuare questo gameplay come scattoso. Ok, questo è il massimo di grafica che posso mettere, o comunque il minimo di grafica che posso mettere, io la vedo ancora un po' scattosa, speriamo che nel video si raddrizzi tutto. Comunque vedo già un nostro amico e perché ti muovi, personaggino, mi dai un po' fastidio il fatto che ti muovi senza un mio comando. Comunque direi di parlare immediatamente con Slate. Ecco il nostro pilota, vedo che sei il... Ecco il nostro pilota, vedo che sei di ritorno al tuo campeggio per lancio sotto le stelle. Sì, mi sa che leggerò un po' poco di quello che mi diranno perché questo mal di gola mi sta uccidendo. Spero che non... non peggiuri il mio video gameplay. Allora, cosa gli rispondiamo? Confermi di aver aggiustato i riattori posteriori. Sì, mi sa che... meglio chiedere se è tutto ok. Una volta e poi un'altra. No, aspetta, cosa è successo? Ah, comunque, ci dà la nostra prima quest, o quello che potrebbe essere la nostra prima quest. Dobbiamo cercare i codici di lancio da scioglicorno. All'osservatorio, ok. Perciò direi di andare immediatamente a cercare questo scioglicorno. Comunque ho provato un po' i tasti e sono strani, nel senso che... Oppalala. Praticamente per saltare, per... Sì, per fare un salto, non è il classico tasto X o comunque A dell'Xbox, ma tipo devi tenerlo premuto per fare un salto effettivamente saltoso. E qui c'è una cosa che è veramente fighissima, una cosa che mi ha fatto impazzire quanto fatto amare. E sto odiando il fatto che si sta muovendo, spero che la cosa non influenzi il gameplay. Cioè, il controllare il robottino e... Oh, cacchio, l'avevo fatto con mouse e tastiera, adesso non so come funzioni. Ah, ma perché ha un tasto input verso destra? Perché questa cosa? Mi sa che passo al mouse e tastiera. Ok, con mouse e tastiera si va un po' meglio, nel senso che non ha quello strano movimento che va... Che tende verso destra, non ho capito bene il perché. Comunque direi di provare questo modellino della nave. È una cosa che mi ha fatto impazzire quanto amare. Allora, praticamente... Sono stato tipo mezz'ora a cercare di centrare quei cosi. Ok, questo poi me ne è andato. E tipo, era difficilissimo quanto fantastico perché... Ok, magari questi sono facili. Poi ho provato a fare una cosa molto più bella. Oh, atterraggio perfetto, atterraggio perfetto. E cioè cercare di beccare... Ok, no, questo è partito un po' male. E cioè cercare di beccare il geyser... Ok, vai su. Sì, verso l'infinito e oltre. E vedere la nostra astronavicella che se ne andava per conto proprio. Addio. Ti volevamo bene. È diventata una stella ed eccola qui. Ok, comunque sì, ci ho passato un bel po' di tempo perché effettivamente mi piaceva un sacco comandare quella cacchio di astronavicella. E sì, sto odiando il fatto che stia laggando così tanto. Comunque qui vediamo un nostro amicone col pentolone, perciò direi di parlarci con Poffi Sassolino. Sì, noi ci chiamano tutti Sassolino, è una cosa che non ho capito. Nel senso, tutti si chiamano fra di loro Sassolino, perciò mi viene da dire, non è che eravamo tutti dei faffi. Direi che gli diciamo che le stelle sono troppo lontane. Ok, mi sa che l'abbiamo delusa con quelli suoi occhietti, quattro occhiette e le tre dita. Che cosa strana, effettivamente sì, anche noi siamo dei tizi un po' strani. Un bel po' strani però, chi se ne frega. Oh, ho visto osservatorio, mi sa che dobbiamo andare di qua. Ah, anche qua c'era una cosa figa da fare. Cioè, parlare con Pistolino qui, che non mi ricordo già il nome. Cos'è successo ora alla radio? Sì, praticamente il segnalo scoppio. Cercio, cercio, giochiamo. Ok, mi devo calmare, devo parlare un po' più lentamente perché sento la gola che sta già andando per fatti suoi. Comunque è una cosa fantastica che, praticamente, quando apre e chiude gli occhi, quando capita situazione in cui apre e chiude gli occhi, praticamente chiude due paia parallele di occhi. Ed è una cosa che è figa, figa figata. Comunque, ecco il nostro, com'è che si chiamava? Frequenzo scoppio? Sondascopio? E, sostanzialmente, dobbiamo giochere a nascondino con quei due ragazzini. Uno, se non sbaglio, è di qua. Ed è bello che, se t'avvicini... Aspetta, dov'è? Ok. Si sente la loro canzoncina. Che cosa fighissima. Ok, abbiamo trovato Garena, Galena. Perché era scritto così in piccolo? Che fastidio. Come il fastidio che mi sta dando questo lag video. Mi sa che mi studierò un po' di soluzione, un po' di qualcosa per migliorarlo. Perché, sì, mi sta dando molto sui nervi. Anche perché, effettivamente, prima mi andava bene. Cioè, comunque, non laggava. E, se non sbaglio, qui c'è il secondo. Ok. Parla con l'apillo e questo rumore di cascata è fortissimo. Ma certo che ci giocheremo di nuovo. E di qua si può andare da qualche parte? No, si può andare semplicemente di qua. Cioè, ritornare dove eravamo prima? Sì. Ok, di qua c'è l'osservatorio e la Zero G Cave. Mi sa che faremo prima la caverna Gravità Zero. E ho sputato l'anima. È l'unica pecca che non si può correre. Nel senso, secondo me, potrebbe essere una pecca o come potrebbe essere una cosa fantastica. Perché, effettivamente, tolto che è una grafica un po' particolare, che a me non dispiace affatto. Mi sta cadendo il joystick. Ok, è caduto. Perciò adesso rimarrà lì. Sono belli i paesaggi. Molto bello questo strano mondo. Con... Cosa era quello? Ok, lo scopriremo tra pochissimo. Ah sì, qui c'è il tizio che lancia a sassolina questa zona di radiazioni. Con questi sassolini radiattivi che, da quello che ho capito, dobbiamo evitare come la peste. Oh, lì cosa c'è? Sì, perché ho esplorato leggermente il pianeta e... No, mi sa che non parlerò con troppe persone. Almeno, non in questo gameplay, perché ho quel po' di mal di gola che mi impedisce di leggere i testi. E diciamo che, ok, potrei farveli vedere e stare in silenzio, però non so, non mi piacerebbe come... Aia, che craniata, come videogameplay. Comunque, possiamo vedere, prima del decollo... Sì, qua ci possiamo addestrare per la gravità zero, sostanzialmente. Ma no, ma no. Eh, ma gli manca un occhio, poverino. Deve aver dato una craniata da qualche parte. Ma sì, ripariamo questo satellite. Anche perché mi piace... Cioè, l'ho provato un pochino come gameplay, perché effettivamente, prima di portare qualcosa, naturalmente, lo provo. Anche se non sapevo di questo lag video, ok? Mia colpa. Ho provato un po' di cose, tra cui questa gravità zero, è figo, figo, figata, veramente, veramente, figo, figata. Allora, accendiamo la torcina con F e iniziamo a cercare il coso da riparare, perché effettivamente non mi ricordo più cosa ci ha detto. Figo. Indossiamo la tuta e... Via, che si va. Aspetta, se non sbaglio... Ok, no, qua non c'è. Il reattore posteriore, lì, come cacchio si chiama. Se non sbaglio, dobbiamo scendere lì, in quel buco di satana. Oh, or, che miseria, abbiamo colpito qualcosa. Ok, lì vedo già un cosino... Ok, da riparare. Agganciamolo. Raggiungiamo la velocità ed avviciniamoci. Ok, avviciniamoci pian piano, rallentiamo e... Ancora un pochino e ripariamo. Via, 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 via. Ok, perfetto, abbiamo tre riparazioni da fare. Ed è figo che praticamente anche il... La visuale rallento un pochino. Mi sa che dobbiamo evitare quella piattaformina. E... ok. È una faticaccia usare questa gravità zero, però è figa. Cioè nel senso, concettualmente, è come mi aspetta una gravità zero. Cioè, faticoso ma divertente. Ok. Ok, stabilizziamoci, avviciniamoci, pian piano. Ok, dovrebbe essere l'ultima cosa da riparare. Ok. Perfetto. Riparazioni completate. GG per noi. GG per noi e adesso devo solo trovare il buco d'uscita. Ok. No, aspetta, questi sono rocce. Oh, porca miseria. Gente, ci siamo persi. No, qua vedo delle rocce. Ah, ah, che dolores. Eh, non capisco più cosa sto guardando. Ok, ok, che. Lì vedo il buco. Lì vedo il nostro dannatissimo buco d'uscita. E... Ok, ci siamo raddrizzati. Perfetto. Ok, andiamo pian pianino. Anche perché stiamo a metà carburante. No, no, ce ne abbiamo ancora un bel po'. E anche di ossigeno ne abbiamo. Ok. Pian pianino. Perfetto. Oi. Ok. Scendiamo per il buco di ritorno e missione completata. Togliamoci la tutina e questa è la gravità zero. Figa, no? Figa, veramente molto bella. Molto divertente. Ti viene un crampo al dito a forza di premere e tenere premuto. Però molto, molto bella. No, per ora mi sta piacendo questo gioco. Tolto gli fps che vanno un po' per fatti loro. Ui, quant'è sto ascensore? Cos'è il 58esimo piano? E... Ok, no. Mi sono anche un po' abituata al fatto che scatti un pochino. Ah, grazie del consiglio. Grazie del consiglio. Ok, certo, certo. Andiamo a prendere sti dannati codici. Allora, l'osservatorio dov'era di qua. E cos'è questo? Ah, ma... Cioè, nel senso, stiamo facendo tipo un tutorial. Ma che poi è solo qua fuori che lagghiamo. Cioè, nel senso, non capisco bene cos'è che ci fa laggare. Allora, che bellino. Guardate l'acqua. Splish, splash. Ok, ok. Qua, se non sbaglio, c'era il museo? Sì, perché sostanzialmente ho fatto giù tutta questa prima parte. Perché comunque, sì, mi stava un bel po' intrippando questo gioco. Qua c'è tipo i... Com'è che si chiamano i? Nomai. Che sono tipo una razza che esisteva su questo pianeta. E che, stranamente, non si sa bene il perché, non si sa bene il per come. È sparita. Un po' come gli azzechi. Che anche loro non si sa bene il perché, non si sa bene il per come. E sono spariti. Cioè, nel senso, penso che più o meno si sappia. Però, sai, sapete, le robe antiche sono sempre un po' incerte. Sono sempre un po' poco non attendibili. Ma, come dire... Bisogna fidarsi di quello che ci è arrivato. Oh, qua c'è anche una mappa dell'universo. Che bello. Cos'è intruso? Cos'è questo intruso? Aspetta, ma era quello che abbiamo visto dal... Dal cos... Dal... Sì, da... Sì, mi sa che è quello che avevamo visto dall'esterno. Che cosa strana. Ah no, aspetta, era questa. Forse era questa la sonda che abbiamo visto dall'esterno che... Tipo, si è... Si è esplosa. Aspetta, ma... Non c'è il rischio che qualcosa schianti su qualcosa. Sì, anche perché intruso passa molto vicino al... Al sole. Vuoto fragile. Cos'è? Lava. Lanterna lava, ok. Profondo gigantesco. Sì, anche perché è molto gigante. E rovo scuro. Comunque, bello, bello. Interessante e abbastanza dettagliato. Ok, c'è roba misteriosa che pian piano esploreremo. E... Ok, lì c'è un tizio con... Dai, sì, dai, parliamoci. Ah, lui è scioglicorno. Ah, era lui. Ah, qua siamo all'osservatorio. Sì, effettivamente stavo osservando il nostro universo. Ok. Ah, abbiamo anche un traduttore nomaino. È con noi. Ah, buono, buono a sapersi. Essere fiero del vostro lavoro. Dove... Io direi che penso di andare su un piccolo pianeta. Giusto per iniziare con piccoli passi. Un grande... Un piccolo passo per... Andreoreo. Un grande passo per i tizi qua. Ah, su... Sfrido. Ok. Andiamo su Sfrido. La nostra luna. Ok, ok. Ottimo, buon consiglio. Ottimo consiglio. Direi che è tutto pronto per partire. Oh, ci ha dato anche i codici di lancio. Ok, buona esplorazione spaziale. Cos'è? Codice è barretta, 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 puntino, puntino, barretta, puntino. Sembra quasi un... Un codice Morse. Mmm. Mmm. Ditemi nei commenti cosa significa questo codice Morse. Se ne sapete qualcosa. Perché sono curioso. Questa è una cosa figa. Queste rocce ti danno la gravità e ti fanno venire anche un bel po' di mal di testa. Comunque usciamo e esploriamo il pianeta. E questo cos'è? Cos'è questa cosa? Non l'avevo vista al primo giro. Aspetta, in che senso? Se faccio... Ma... Che figo! Che figata! Ah, cosa interessante. Perciò se adesso mi giro di qua e di qua. Se adesso io guardo queste due... Significa che è lì? È lì? È lì? È lì? Che cosa? Che cosa bella? Che cosa molto interessante? Non me l'aspettavo un... Come dire? Una meccanica così strana da un gioco così. Cioè nel senso... Non mi aspettavo nulla da sto gioco anche perché effettivamente non conosco questo gioco. Non ho mai visto un gameplay. Sì, lo sapevo già perché ero già uscito da questo osservatorio. Ah, questa è tutta la roba che abbiamo fatto prima. Non me ne ero accorto al primo giro. Ok. Va bene. Testa strana. Comunque abbiamo i codici di lancio direi di andare immediatamente a... La statua si è rivolta verso di me e ha aperto gli occhi. La statua faceva cosa? Ok, tipo allucinazione... Ah no, sì, no, no. Ha veramente qualcosa di strano quella statua. Ah, anche scioglicorno. È un bel nome scioglicorno. Ah, un profondo gigantesco. Ok, abbiamo già due luoghi in cui andare. Ok, dovremmo andare sia su Frida, se non mi sbaglio, che su profondo gigantesco. Ok, ma se non ci fate andare alla nostra astronave, come facciamo noi ad esplorare? Comunque bevo un attimino, intanto che vado avanti. Ok, guidare con una sola mano è una faticaccia. Perciò... Qua cosa c'è? Una casetta. Ok, se non sbaglio... Ok, di qua si può scendere un po' più rapidamente. Ma è solo questa zona che mi fa laggare così tanto. Non capisco il perché. Non capisco bene cosa ci sia di così... Ok. Di così pesante da farmi laggare così il mio computer. Che, ok, non è un computer dei più performanti. Però, dai... Nel senso, dai, dovrebbe reggerlo un gioco così. Questo cos'è? Cartoline dallo spazio? Ah, che figata. Ah, ho capito. Posteriore. Error. Ah, che figata. Praticamente vediamo la... La sonda che ruota attorno al pianeta. Molto interessante. Cosa c'è di... Di... Di utilizzabile. Niente, a quanto pare. Ho tolto quello. Sì, dovrei parlare con i tizi, ma... Ho fretta di... Iniziare l'esplorazione. Comunque, torre di lancio. Ok, perfetto. Dovremmo essere arrivati dal di qua. Noi prima. Sì, c'era la tizia col pentolone. Ok. Di qua, ok. E vediamo di iniziare... Cosa c'era qui? Ah, no. Tieni premuto per saltare. Ok. Solo un... Un'istruzione sul come si salta. Perciò inseriamo i codici di lancio. Ah, ok. Era tutto qui. Era solo un... Un elevatore. Pensavo fosse un chissà cosa. Oh, che bellina. Che... Più o meno bellina. La nostra astronavicella. Ah, lì... Ah, è tipo la... L'astronave che usavamo prima come simulatore. Beh, sì. Effettivamente era un simulatore di... Oh, cos'è? Ah, tubi di Merwad. Effettivamente era una... Era un simulatore di astronave spaziale. Dovevo arrivarci. Ah, cosa abbiamo qui? Cosa abbiamo qui? Lì abbiamo roba luminosa. Qui abbiamo... Una tuta spaziale. Ok. Qui cosa abbiamo? Un boiler per l'acqua calda, a quanto pare. Qui abbiamo i comandi di lancio. Oh, che bellini. È figo che è tutto fatto in legno, però è anche spaziale. Registro della nave. Vediamo, vediamo. Ah, sì, ci dà... Ah, ci dà tipo le pseudomissioni. Modalità ipotesi. Ok. Allora, dovremmo andare da Gabbro. Rovine lunari e accampamento di Esco. Ok, vediamo le rovine lunari, visto che... Effettivamente volevo andare su Sfrido, che dovrebbe essere la nostra luna. Ok. Ok. Ah, ok, no, ci dice solo dove poter andare. Ok, perfetto. Ah, e qua c'è una mappa un po' più facile da vedere. Profondo gigantesco. Ah, ma non è così vicino profondo gigantesco. Mi sa che sì, dai. Alla fine andiamo su Sfrido come prima missione. Ok. Allacciamoci le cinture. Shift per decollare. E si parte. Ok. Ok, dovremmo essere... Eh, come si... Come si zooma? Ok, dove si trova Sfrido? Dall'altra parte del pianeta e a quanto pare siamo atterrati. Forse non dovevo guardare la mappa. Ok, sì, siamo atterrati di nuovo qui. Ah, abbiamo proprio tutta una visuale molto strana. Allora. Ok, dobbiamo cercare Sfrido che è quella. Mi sa di sì. Sì, sì, perché è la nostra... Sì, Sfrido. Ok, allineiamoci e... Iniziamo ad arrivarci. Pian pianino lì vedo delle rovine strane. Cos'è quella roba? No, no, no. Voglio l'esplorazione spaziale. Ok, ok, ci stiamo avvicinando pian piano su Sfrido. Allineiamoci. Ah, abbiamo anche il piloto automatico, così posso grattarmi il nasino. Ok, allora dobbiamo scegliere dove atterrare. Fatemi esplorare pian pianino il pianetino. Allora, ok, lì vedo forse un qualcosa per atterrare. Ok. Madonna, che cosa complicata. Non ti allontanare. Aspetta, così, 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 ok. Ehi. Oh, madonna. Sto sudando, sto sudando, gente. Ok, così forse è un po' più facile per me. Ok, dai che ce la faccio, dai che ce la faccio. Più o meno, dai. Più o meno è andata bene. Ok, forse non era una rampa d'atterraggio come pensavo. Forse era solo una rampa e basta. Perciò direi di atterrare qui. Nice. Oh, che figata. Mi ricorda molto le classiche cose da esplorazione di roba spaziale. Ok, si può respirare qua fuori. Ok, forse non si può respirare qua fuori. Però se non dicono nulla, che tristezza. E adesso cosa succede? Ah, ma che figata. Praticamente se moriamo, ritorniamo indietro. E abbiamo anche già i codici di lancio, a quanto pare. Che figata. Devo ammetterlo che figata, grana figata. Comunque, visto che siamo morti e visto che questa sarebbe una nuova partita in teoria, o comunque un 2.0 di quello che stavamo facendo prima, direi che finisco qui il gameplay. Se il video ti è piaciuto, ti ricordo di nuovo di lasciare un like, di commentare con qualsiasi suggerimento su questa nuova serie e di iscriverti attivando la campanellina, perché è importante la campanellina. Nel senso, per voi è solo un click di mouse. Per me è tanta roba. È tanta, tanta roba. Comunque, direi che ci vediamo a un prossimo video gameplay. E ciao, ciao, amici biscottoni. Ciao. Grazie a tutti.